Musica Buon pomeriggio a tutti voi, oggi Big Wave mediariano vi portano allo spettacolo più bello del mondo, vi portiamo al circo, state con noi Amici miei non può mancare quando si va al circo il popcorn oppure quello che piace a Big Wave, lo zucchero filato Facciamo la fila Beh, cari amici, non poteva mancare, io l'avevo detto, lo zucchero filato, state con noi, ne vedete ancora delle belle e anche delle buone Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.